insomma gruppo compatto 14 giri e adesso ci si gioca la finale con i primi 8 posti e finale a 16 a 30 e dov'è? dove ha? un'anigre 4 Giulietto all'esterno cominciano ad accelerare vanno a fare il primo giro a tutta Giulietto in seconda sono scontati fiumiento e falcioni vediamole al ritmo 325 299 primo traguardo come non ci fosse un domani ma la distanza è abbastanza breve per questa categoria siamo ai meno 11 e già questi si comincia a fare volate più intense è la volta di Braga 239 19 Braga Mainan e le mani e le mani e le mani e le mani coperta 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 e le mani e ora chiunietto all'esterno brava all'esterno tornò fuori in scia arriviamo se noia Braga Mainan si mette seconda va a prendere un altro qui vicino 325 239 325 e ora l'atleta di San Benedetto l'atleta di San Benedetto 45 Grando 636 a Morita Grando Raga Chiumento brava sta lì brava sta lì brava brava 277 145 che ora va a prendere la prima posizione Bolivia Sprega Fortituro Fabriano 325 ancora olimpiade Siracusa con la scotto 2 7 brava 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 325 325 raga arrivo 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 garona 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 raga 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 disposizione per l'atleta bailo e seconda posizione dovrebbe essere pittatore vediamole all'arrivo 2 4 3 356 bailo pittatore ancora una campana a meno 11 viene fuori ora l'atleta della 22 41 Agnese Fiorato guadagna due punti, ma di nuovo Pintatore, Pintatore Lazzarin, l'atleta della vittoria Torino che lascia andare, Pintatore Lazzarin, l'atleta, 356, 79, vediamo chi prende lo scalco vivo che va a riuscire lo strappo con le atlete, si tratta di Miriam Nafi, ma aumentano la natura avanti con Lazzarini e Pintatore, ancora si alternano i punti, Lazzarini in due punti, Pintatore un punto, ora va la Pintatore a dare il cambio e ci prova l'atleta di Cassano, questa volta in modo deciso le va a riprendere, le va a riprendere l'atleta del crossheading Cassano, la numero 107, ora all'ora la Lazzarini va all'esterno, va all'esterno poi, si mette in scia della Pintatore, anzi no, esce in esterno Pint, vediamo, photo finish 3-5-6-107, siamo alla campana di meno 3, meno 3, basta, ora all'altro atleta del Cassano, è la numero 108, il 107, le due atlete Cassanesi prendono 2-1 punto, ultimo giro, per la Pintatore, ultimo giro, esterno per la Pintatore, Pintatore al comando, al secondo Mezzana Siena, Sara Parigi, e Carlotta ballone, forse Pescara va a mettere il piedino sulla ballone,